pochi giorni fa brandon curry mister olimpia 2019 ha postato un video sul suo canale youtube dove parla appunto della sua strategia per riprendersi the crown cioè la corona o il sandal che vedete alle sue spalle che ha perso diciamo quest'anno a causa o per merito di bigrami e io penso che questo canale di youtube di brandon sia più che altro un tentativo per promuovere tentativo un modo per promuovere la sua linea di integra tuare integratori chiamata o 15 nutrition vedete che mi sembra di capire che stia cercando di promuovere gli integratori giustamente ma come molti bodybuilder anche lui ha una linea integratori manco solo io fondamentalmente chiaramente o 15 olimpia 15 15 perché è stato il quindicesimo mister o nella storia del body buildings è una cosa molto interessante che dice è che la sua strategia quest'anno per battere phil era quella di arrivare definito e c'è riuscito cioè doveva combattere la definizione di phil portando una buona definizione poi non penso che fosse più definito di film però comunque ha battuto phil penso anche meritatamente perché fila va lo stomaco era un po meno grosso del solito non era una versione nobile di phil quindi nonostante l'obiettivo dichiarato di brandon fosse portare una definizione per battere phil e nonostante non penso che ci sia riuscito ha comunque battuto phil ma la cosa più interessante che dice il buon brandons è che comunque per battere rami cosa che non penso succederà perché rami sembra superiore a brandon è un buon bodybuilder brandon però rami un bodybuilder superiore perché più completo quello che dovrà fare per battere brandon non è quello che ha fatto per battere phil ed è interessante perché dice una cosa che se vi ricordate io avevo presupposto qualche video fa ovvero che per battere rami dovrà essere definito ma non definirsi troppo perché così facendo potrebbe perdere un po di massa nelle gambe poi se volete guardare il video per avere la conferma guardatelo però se vi ricorderete io avevo fatto questa ipotesi qualche video fa non mi ricordo in che video fosse però avevo detto potrebbe essere che brandon non arrivi molto definito non tanto perché non ci riesca ma per non perdere troppa massa nelle gambe questo l'avevo detto prima che uscisse questo video di brandon e adesso l'ha confermato quindi la sua strategia in parole povere è non giocare al gioco della definizione perché rami non è un maestro di definizione a differenza di phil che a quanto pare brandon quest'anno voleva arrivare molto definita per battere phil c'è riuscito ma non mi pare che brandon fosse molto più definito dell'anno scorso o molto diverso dell'anno scorso e tra l'altro anche questa cosa avevo detto avevo detto a me brandon sembra più o meno uguale al 2019 è molta gente no ma guarda che brandon è migliorato tantissimo ma la due settimane dopo video di steve weinberger che dice brandon è uguale al 2019 quindi una cosa o due la zecco ogni tanto prima che venga confermata dai diretti interessati ovvero brandon che dice che non vuole definirsi troppo per mantenere le gambe e poi steve weinberger capo dei giudici della fb che dice brandon è la prima o uguale al 2019 quindi mi do una pacca sulla spalla anzi due però io non penso che brandon possa battere rami pur non essendo rami in genere super definito mi sembra che le definizioni di due si siano eguagliate quest'anno a me personalmente piace più brandon perché ha un fisico più bello più estetico una vita più stretta un bel vitae per molto bello da vedere però devo essere sincero imparziale pur non piacendomi le gambe di rami che sono troppo grosse è meglio troppo piuttosto che troppo poco è nel caso di brandon le gambe sono sproporzionate sono sproporzionate anche quelle di rami però almeno ce li ha rami basterebbe che non le allenasse per un po magari tirando un po il freno a mano però brandon le allena le gambe impossibile che non le alleni anche detto da poco che si è fatto un mese di pausa dopo il misto olimpiato gli allenamenti ripreso allenarsi paio di giorni fa facendo un po di gambe brandon le gambe le allena e non gli crescono c'è poco da dire purtroppo anche facendo questi stratagemmi nel senso arrivo un po meno definito così mantengo un po di gambe non gli diventeranno mai più grosse cioè io sono ultra convinto che non vedremo mai un brandon con le gambe proporzionate alla parte scuola del corpo ed è un peccato perché è un ottimo nuovo bodybuilder qui vedete la definizione nel christmas tree non mi sembra particolarmente definito nonostante fosse il suo obiettivo arrivare molto definito per battere fill nonostante ci sia riuscito non mi sembra molto definito quindi non vedremo mai brandon con le gambe al passo con la parte superiore ed è un peccato perché non ci può fare granché alla fine quindi fatemi sapere che ne pensate di questa strategia se pensate che possa funzionare per battere rami io non credo perché rami è superiore perché più completo non perché mi piaccia di più c'è molto più bello da vedere un brandon che ovviamente molto più bello molto più estetico ha anche una lower back che rami non ha però le gambe lo penalizzano decisamente troppo quindi ditemi un po che ne pensate di tutte queste considerazioni se pensate che brandon potrà mai portare sulle gambe io non ho mai visto gente con dei punti deboli così accentuati migliorarli in maniera così drastica nel senso le allena le gambe brandon pensate che in questi due anni non abbia allenato le gambe eppure non è riuscito a portarle a certi livelli e se pensate che comunque possa abbattere rami io sinceramente non penso non penso che sia fattibile perché con guerra mi ha portato un buon pacchetto non incredibile perché potrebbe essere più definito le gambe possono essere un po più smilze però un ottimo posing di rami una buona definizione e brandon pur essendo più bello da vedere e indietro di gambe e non penso che arrivando un po meno definito fermo restando che non era chissà quanto definito quest'anno possa mantenere delle gambe all'altezza buona